Per esempio le multinazionali, i cosiddetti poteri sovranazionali, quelli che chiamiamo i poteri sovranazionali, la massoneria, l'elite, però elenchiamoli, hanno un nome e un cognome, elenchiamoli, allora multinazionali, gota della finanza, massoneria, case regnanti e chiesa post conciliare. Non ci facciamo mancare niente. Ecco, hanno stretto un'alleanza di ferro per acquisire sempre più potere, a danno dei popoli. Contro i pericoli insiti nel mondialismo ci aveva già messo in guardia Ida Magli, la grande antropologa, con un saggio illuminante che era stato pubblicato dalla Burr nel 2010, intitolato La dittatura europea. Certamente. Fra i grandi burattinai che muovono i fili delle sorti umane, figurano i soliti noti, Atali, Bezos, Elkan, Gates, Musk, Sassoon, Schwab, Soros, Rochelle, Rockefeller, Warburg, Zuckerberg. Quest'oro possegono immensi capitali con i quali si sono assicurati il controllo dei mezzi di informazione, le agenzie pubblicitarie, il cinema, così da manipolare l'opinione pubblica, orientare il dissenso e manovrare elezioni, di modo da costruire dei governi fantoccio, deputati... Abbiamo avuto prova negli Stati Uniti. Ecco, incaricati di esaudire il loro desiderata, sostanzialmente. E benché agiscano da furfanti, questi signori della guerra, del petroglio, della farmaceutica e delle banche, amano autodefinirsi filantropi. Filantropi. Meraviglioso. Io nell'editoriale sono stato educato, ho detto, speculatori travestiti da filantropi, ma nelle piazze dico tutt'altro, insomma. Tiranni del pensiero unico si fingono paladini della democrazia. In realtà se ne servono come di una sorta di cavallo di troia per esercitare un liberismo sfrenato e per accrescere il loro potere che comporta anche quello di sorvegliare sempre di più la popolazione mondiale. Questi filibustieri, cosmopoliti e pedosatanisti, si appoggiano a una rete di organismi al loro servizio che sono chiamati a procedere nel pieno rispetto dell'esecuzione dell'agenda mondialista. Ne citerei alcuni. Bildelberg, Trilateral, Aspen Institute, Banca Centrale, Fondo Monetario Internazionale, Federal Reserve, ONU, NATO, OMS, Commissione Europea, Gruppo dei Trenta, Club di Roma, Corte Internazionale dell'AIA e, dulcis in fundo, World Economic Forum. Ci puoi aggiungere anche il settore superiore di sanità? Anche quello. Con il ricorso a conflitti scellerati, attentati terroristici, privatizzazioni selvagge, embarghi arbitrari, minacce e rappresaglie, leggi inique, norme assurde, creazione di trasti in paradisi fiscali, false emergenze sanitarie fondate su dati fasulli, paura gonfiata ad arte, protocolli criminali e corruzione mirata, rapinano le ricchezze dei singoli stati e stabiliscono equilibri geopolitici a loro convenienti.